Grazie a tutti. Al Catania, la probabile formazione, intanto vi dico che sono 22 i convocati, non c'è Almiron che è squalificato, non ci sono Potenza, Biaggianti e Campagnolo che sono infortunati. Questo è il 4-3-3, l'ipotesi di formazione del Catania con Carrizo in porta, Motta, Legrottaglie, Spolli e Marchese in difesa. Poi Isco Lodi e il ballottaggio fra Seymour e Richiuti a centrocampo. In attacco il tridente con Gomez, Bergessio e Barientos. Ci sono state delle prove in settimana, è importante anche il ruolo di Giamma che potrebbe entrare e anche cambiare il modulo del Catania. Per quanto riguarda la Fiorentina, dimmi tu se la diamo subito oppure dopo. Ecco qua la Fiorentina, 4-3-3 con Boruzzi in porta, Cassani, Natali, Gamberini e Pasquale in difesa, Montolivo, Cargià e Lazzari a centrocampo. E poi l'attacco con Amauri punta centrale e Cerci e Vargas ai lati. Ricordiamo che nella Fiorentina manca Jovetic che è infortunato, ma anche Nastasic, il difensore Nastasic e il centrocampista Berami che sono squalificati. Grazie a tutti.